La nissena Maria Russica ha trionfato ad Antibes, in Francia, conquistando il titolo di vice campionessa europea nel kata e kumite al XIII European Karate. Il kata è la forma di allenamento originaria della pratica del tode ed è una forma di allenamento determinante per tutte le arti marziali tradizionali. Kata significa forma, sequenza di tecniche prestabilite. Il kata rappresenta sia l'espressione dello stile che le diverse generazioni di karateka si sono tramandati, sia una serie di tecniche schematizzate che devono essere attentamente analizzate e comprese nella loro applicabilità da chi esegue il kata. Il kumite invece si può tradurre con combattimento reale, applicazione in situazioni reali, contrariamente a quando si può pensare, il kumite sportivo è da palestra e praticato sistematicamente da meno tempo. A sfidarsi sui 12 tatami sono stati oltre 1500 atleti provenienti da tutta Europa. L'atleta nissena è tornata a casa con due medaglie d'argento al collo e la determinazione che la spronerà a continuare a migliorare le sue tecniche e i risultati delle sue esibizioni. Si è svolto ad Antibes in Francia il campionato europeo dove vado a competere sia nel kata che nel kumite guadagnando il secondo posto in entrante le specialità. Con questo voglio ringraziare il mio maestro Michele Nicosia per avermi portato a questo livello. Con questo torno a casa contenta e soddisfatta perché la gara è stata veramente competitiva portando a casa queste due bellissime medaglie.